... Oggi finalmente si inaugura un nuovo mezzo in dotazione ai Vigili del Fuoco Volontari di Castellamonte. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono passati tre anni, tre anni molto intensi di lavoro, di parole, di discussioni, però ce l'abbiamo fatta grazie a tutti, grazie alle aziende del Canavese, della nostra zona specialmente, a molti cittadini privati, in particolare dei cittadini privati alla famiglia Rosbock, che ha dato un grosso contributo e una grossa mano alla realizzazione della nostra opera e grazie ai nostri Vigili del Fuoco, quelli di Castellamonte, che hanno messo dell'oro a livello di esperienza, di lavoro e tutto alla realizzazione di questa opera. È un mezzo che arriva dall'Olanda, ci è stato donato, come detto, da un'azienda di Castellamonte, la Zurvit, e da lì è iniziata la lunga ricerca di sistemazione. Dopodiché, una volta sistemata, la palla è passata alla parte burocratica, parte del Comando di Torino, che grazie a tutti i vari uffici del Comando di Torino hanno, non dico accelerato, ma abbiamo seguito un determinato iter procedurale, grazie al nostro amico Vigile Marco Rua, che ha collaborato per tenere i contatti tra noi e gli uffici di Torino, siamo riusciti ad arrivare a questo giorno, dove prevediamo che dalla mezzanotte di questa sera l'APS di Castellamonte sarà operativa. Un giorno importante per i Vigili del Fuoco volontari di Castellamonte e per l'Associazione Vigili del Fuoco Delegazione di Castellamonte per l'inaugurazione di questa nuova APS. Le attrezzature e i mezzi sono molto importanti per riuscire a coprire le emergenze. Sì, certo, oggi è veramente un giorno molto importante perché dopo tre anni di sacrificio e grazie soprattutto alle aziende qui di Castellamonte, ai commercianti, alle famiglie e ai cittadini che ci hanno aiutato, finalmente siamo riusciti ad ottenere questo grande progetto di mettere su strada questo APS per la collettività e per il territorio. Sicuramente è un automezzo che si va ad aggiungere a quelli già esistenti per il soccorso sul territorio ed è un mezzo molto importante. Sì, attrezzature ce n'è sempre di bisogno, anche perché comunque la modernità si evolve, quindi ci sono sempre più attrezzature e automezzi nuovi e quindi cerchiamo sempre di essere al passo con i tempi. E il compito dell'Associazione è proprio quello di sostenere il distaccamento reperendo fondi per riuscire a coprire i fabbisogni? Sì, la delegazione, come tutte le altre delegazioni dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, ha questo compito di reperire risorse per acquistare attrezzature e automezzi di cui i distaccamenti hanno bisogno. Ce la mettiamo tutta, diciamo, comunque piano piano, con l'aiuto di tutti, si riescono ad ottenere questi grandi risultati. Quindi un ringraziamento a tutti, però la richiesta di sostegno è sempre aperta. Sì, diciamo, il ringraziamento è a tutti quanti, anche al comando provinciale di Torino, al comandante provinciale, a tutti quelli che ci hanno aiutato. La richiesta sì, la richiesta c'è sempre. Per chi volesse aiutarci, chiunque volesse aiutarci, diciamo, il nostro IBAN è sempre attivo, quindi chi vuole sostenerci sappia che comunque le donazioni vanno a buon fine per questi automezzi, come vedete qui dietro, per le attrezzature di cui noi abbiamo bisogno per operare, per la sicurezza. Grazie. 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 Grazie.